sulla cima del pet filmato per laura che giù in sardegna a fare la pifera uliana di qualcosa anche perché c'è risulta in marcella che non posso usarmi adesso qua vediamo adesso qui qua sotto ci sono i laghi di albert e di sono i laghi bellissimo sono sei piccoli laghetti ecco troppo troppo tirato troppo ecco 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 qua raghi un altro non c'è qua c'è di nuovo uliana e ci chiudo passo e chiudo ciao 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 ciao